Non c'è nessuno Non c'è nessuno Non c'è nessuno Tuttavia vabbè ragazzi se vi siete visti l'inizio del video sulla geisha assassina saprete benissimo perché ho deciso di trattare nuovamente questo argomento rigirando il video da capo aggiungendovi dei dettagli e togliendoli di tutto quel drama che è successo nelle scorse settimane perché sinceramente non voglio annoiarvi quindi vorrei concentrare questo video sulle scuse in Giappone come ci si scusa e che cosa significa per i giapponesi scusarsi e in quale circostanza essi si scusano Prima di iniziare vi chiedo gentilissimamente di lasciare un mi piace spero che questo video possa essere utile per le persone arroganti che vogliono sempre avere ragione e non sanno come scusarsi anche quando hanno torto scusarsi come intendo io scusarsi ragazzi io vivo in Giappone da tantissimi anni ho i pantaloni ecco dei pantaloni corti ho visto adesso che si vede un pezzo di gamba Ragazzi ho vissuto in Giappone più di metà della mia vita quindi quando una persona si scusa in Giappone lo fa in un certo modo che penso sia molto diverso dal modo che gli italiani hanno di scusarsi Quindi io spero con questo video di poter fare chiarezza su questa cosa spero che il video vi possa interessare e spero che non lo so capirete che comunque scusarsi non è assolutamente un'ammissione di debolezza ma anzi è una virtù Perché ragazzi immaginatevi riuscire a riconoscere di aver fatto un errore prenderne atto cercare di non ripeterlo più e ammetterlo in modo rispettoso L'ammissione del proprio errore secondo me è un simbolo di forza perché essere troppo sicuri di sé e essere sicuri di essere sempre nel giusto Diciamo che non vi porterà lontano perché sempre si sbaglia io sono il primo a sbagliare però ragazzi l'ammettere di aver sbagliato e cercare di rimediare È la cosa giusta da fare e è quello che tutti dovrebbero imparare a fare di solito è una cosa che si dovrebbe imparare già nell'adolescenza se non prima ancora Però ragazzi ci sono delle persone che fanno veramente fatica a capirlo quindi noi parleremo di questo in questo video Io credo che la differenza maggiore tra chiedere le scuse in Italia e chiedere delle scuse in Giappone sia che chiedere delle scuse in Giappone Non lo si fa soltanto per ammettere le proprie colpe e prendersi la responsabilità Non è assolutamente l'unico punto infatti molto spesso in Giappone ci si scusa per molti altri motivi Lo si fa per mostrare gentilezza, modestia e anche per abbassare il livello di incazzamento magari dell'altra persona Vorrei adesso mostrarvi due clip di scuse e vorrei commentarle insieme Allora la prima saranno le scuse di Logan Paul dopo che ha fatto vabbè ragazzi cosa ve lo sto a spiegare a fare se volete andarvi a vedere il video qui La seconda invece sono le scuse di questa campionessa di tennis Osaka Naomi Questa ragazza giapponese il cui padre è americano e la madre è di etnia giapponese Se volete saperne di più su Naomi Osaka in realtà ho anche fatto un video quindi potreste andarvelo a vedere Come potete vedere comunque già da questa clip potrete vedere come Naomi Osaka sembra molto più dispiaciuta rispetto a Logan Paul Pur non avendo fatto nulla di male Cioè non so se avete capito perché Naomi Osaka si sta scusando in questa clip E l'unico motivo per cui lei si sta scusando è perché dice Ho vinto io, so che c'erano molti che facevano il tifo per quest'altra atleta e mi dispiace di aver vinto io Cioè avete capito? Lei si è addirittura scusata per questo So che è un concetto veramente difficile per gli occidentali da capire Perché voi dite ma Naomi Osaka non aveva fatto nulla di male Cioè stava partecipando a un torneo di tennis, ha dato il meglio di sé e ha vinto perché si è scusata In realtà questa è proprio la tipologia di scuse che vedrete molto 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 spesso in Giappone Secondo me in questa clip si capisce perfettamente quanto Naomi Osaka dentro sia giapponese Forse perché l'avrà educata la madre che è giapponese Però secondo me questo proprio dimostra questa modestia e questa capacità comunque di Di mettere anche le altre persone a loro agio Cioè tutta questa gente che le stava grinando boo perché aveva vinto E lei con quella frase è riuscita a zittire tutti E l'ha fatto con una tale grazia e classe che veramente è da ammirare Storicamente comunque il Giappone anche parlando delle Nihonjiro Comunque sappiamo che è una società proprio definita gruppista È una società definita anche shudan shugi quindi che non si basa sull'individuo ma sull'intera comunità Quindi l'essere escluso in una comunità è proprio quello che tutti i giapponesi vorrebbero evitare Quindi molto spesso ci sono dei giapponesi che finiscono per prendersi delle colpe Unde evitare di rovinare l'atmosfera e l'armonia che c'è magari in un determinato gruppo di persone E questa è una cosa estremamente diversa che abbiamo con noi italiani Qua non vorrei generalizzare troppo però molto spesso la nostra società è più improntata sull'individualismo Quindi questa diciamo è una grande differenza che si ha quando si ha a che fare con magari la società nipponica e quella giapponese Ragazzi non vorrei finire in orientalismi però diciamo che un finino io spero che riusciate a capire quello che sto cercando di dirvi Anche per esempio se voi arrivate in ritardo al lavoro perché magari c'è stato qualche problema col treno e siete arrivati in ritardo Voi arrivate al lavoro vi scusereste anche se non è di peso da voi il vostro ritardo capito? In Giappone funziona così Non è che lo dovete fare per forza però io vi posso assicurare che il 99% dei giapponesi in queste situazioni molto probabilmente si scuserà E non lo fanno perché ritengono di essere nel torto Ma lo fanno principalmente perché vogliono dimostrare quanto tengono alle altre persone E questa è una cosa secondo me molto importante che molto spesso molti italiani quando si scusano non capiscono E si scusano solo se sono nel torto marcio Ma ragazzi anche se avete fatto un piccolo errore scusatevi che è meglio nel dubbio Perché in Giappone come vi ho detto all'inizio scusarsi è una virtù per i giapponesi Un fatto molto interessante è che la parola sumimasen che in italiano può essere tradotta come scusa In realtà in molte situazioni questa può essere tradotta come arigato Quindi come grazie E questo in molteplici situazioni Per esempio non lo so magari c'è una donna che è su una sedia a rotelle E l'ha detto alle ferrovie che la aiuta a salire sul treno Dispone il tappetino per poterla far salire Guarda scusami un attimo devo allestire un po' quella cosa E lei magari dirà In quel caso però quel in italiano lo tradirei più come un Sì un scusa che ti ho fatto fare questa cosa Ma anche un grazie mille per esserti comportato in questo modo Altre situazioni può essere per esempio al bar Quando vi portano una bevanda che avete ordinato Magari vi diranno E magari voi risponderete Ecco qua che è arrivato il caffè E voi risponderete Però quel in italiano è più un Ah grazie mille capito Questo succede anche magari in treno Se magari c'è una persona anziana che sale E voi magari vi alzate per lasciare posto a questa signora Ragazzi fatelo sempre Se ci sono degli anziani in piedi in treno Alzatevi anche voi è importante Poi vi alzerete E questa donna molto probabilmente non è che vi dirà arigato Ma vi dirà sumimasen Però quello è un sumimasen ma anche arigato Cioè vuol dire sia uno scusa e un grazie assieme E questo lo si può capire anche spesso Quando vediamo degli giapponesi Che magari parlano inglese Però non benissimo E magari ci sono delle occasioni Che invece di dire grazie Diranno I'm sorry Il che è abbastanza singolare Ma se vi capita di conoscere magari qualche giapponese Che è da poco in Italia Provate a farci caso Perché molto probabilmente potreste incappare In questa situazione A me è successo spesso Un treno arriva con 1-2 minuti ritardo Manderanno l'annuncio Ci scusiamo per il ritardo Addirittura c'era un treno Lo Tsukuba Express Che era partito con 20 secondi d'anticipo E il treno ha fatto questo annuncio Che si scusava per essere partito con 20 secondi d'anticipo Quando ha visto l'articolo ha detto Un'altra situazione in cui magari in Giappone si scusano Ma in Italia no È quando arriva l'ambulanza Magari l'ambulanza arriva a un incrocio Deve passare E praticamente l'autista dell'ambulanza O l'altra persona che è seduta comunque insieme all'artista in ambulanza Prende questa specie di microfono E dirà Scusate dobbiamo passare Potete farci passare Grazie mille E poi passano Ringrazieranno E chiederanno scusa Per diciamo il disagio che hanno potuto creare E ragazzi sì C'è una sirena Quando passa l'ambulanza Ma in più Si scusano per cercare comunque di Tranquillizzare gli altri guidatori O passanti Che magari si trovano lì Quando l'ambulanza deve passare Io non so se questo succede anche in Italia Ma non mi pare di aver mai sentito Delle ambulanze dire qualcosa Però oggettivamente io vivo in Giappone Da tantissimi anni E non me lo ricordo Se lo sapete Ditemelo nei commenti Vi ringrazio Un altro motivo per cui ci si scusa in Giappone E questo magari un filino È simile a quello che è capitato in questi giorni Sono per degli scandali sociali Magari che ne so Un'azienda ha fatto delle cose che non doveva fare E non si va a scusare soltanto la persona Che ha commesso diciamo questo reato Crimine o anche una stupidata Potrebbe essere Ci si scuserà Se è una grossa agenzia davanti a grandi giornalisti E arriveranno praticamente non solo i capi Ma anche i dipendenti A scusarsi E a un certo punto La persona che si deve scusare Si metterà a 90 Rimarrà lì per un certo tempo E si scuserà Questo succede spessissimo Anche con i personaggi famosi Quando si devono scusare Per qualcosa che hanno fatto Possono essere delle cose anche veramente Strane per noi italiani Come un tradimento Magari questo attore ha tradito Sua moglie E lui si deve scusare Cioè capite C'era questo personaggio famosissimo Becky Che si è dovuta scusare e riscusare Per essere andata con un uomo Che aveva già una compagna Quindi lei non stava nemmeno tradendo Era questo uomo che stava tradendo Ma lei si è dovuta sposare E hanno anche cancellato molti lavori Mou shakari masenでした Seishun jadeva suosite kita Anche gli youtuber si scusano E lo fanno Magari attraverso dei video di scuse Per esempio c'era lo youtuber Più famoso giapponese Che si è dovuto scusare Perché a un certo punto Mi sembra avesse tot morose insieme Non so tutta la storia Però questo è un pezzo del video So che questa è una situazione un po' assurda Però potete capire la differenza Che c'è in Italia e in Giappone Quindi potete capire come Quando ho assistito in quest'ultima settimana Degli episodi di scuse Un pochino diciamo Alternative Per me Non me le sono bevute Ma perché io ho Un background culturale Completamente diverso Da questa persona Oltre al fatto Che io sono una persona Completamente diversa Quindi ragazzi Questo è stato un po' Quello che è successo Personalmente Non credo che ci sia nulla di male Nello scusarsi E secondo me È giusto farlo Perché ci si dimostra Come delle persone pacifiche E che hanno anche a cuore I sentimenti delle altre persone Ragazzi Io vorrei sapere La vostra opinione Sono curiosissimo Di sapere che cosa ne pensate In ogni caso Noi ci vediamo Al prossimo video Ciao E grazie sempre Per vedere questi video Ciao